ecco le mie barbie tutte allineate peccato che non mi piacciono più le bambole soprattutto barbie qui ci metterò il mio calendario così saprò quando arriverà la mia nuova sorellina finalmente cosa ehi questa è la tua nuova sorellina buon divertimento ma mamma voglio una sorella vera non una bambola oh non mi piace ciao sono la tua nuova sorella non è possibile che la mamma mi abbia regalato una barbie come sorella io desidero una e sister vuoi giocare mi hai spaventata guarda ti faccio vedere qui ci sono tutte le mie cose e tutto ciò che ci potrebbe mai servire tieni prendi questo cosa mi sono seduta un ragno vattene via ora ti elimino io no non esiste preso rilassati lui è il mio animale domestico cosa davvero perché non l'hai detto prima ai che dolore lascia che ti aiuti cosa hanno i tuoi piedi sono storti mi aggiusterò io non riesco anche se faccio così hai fatto fai silenzio buongiorno mondo mi sono scordata di struccarmi ieri sera buongiorno sul serio ciao barbie ciao barbie guardatemi tutti sono barbie sono perfetta cosa è successo ai miei vestiti ehi ti ho comprato dei vestiti rosa non voglio indossarlo penso che sia ora di diventare creativi voglio che questo maglione sia più di tendenza e per riuscirci avrò bisogno di un po' di vernice rossa e nera mettiamoci al lavoro che bei colori verrà benissimo finalmente ora si che sto meglio ehi sorella ti ho preparato la colazione finalmente ma plastica fai sul serio dov'è la mia colazione? che bontà mangia che dobbiamo andare ma che fai? avanti mangia la tua colazione ho bisogno di cibo vero delizioso scommetto che non l'hai mai assaggiata mi piacerà vedrai apri la bocca ma non sai fare proprio niente devi chiudere e aprire la bocca poi devi ingoiare il cibo dunque che ne pensi? che buona ne voglio ancora ho creato un mostro ehi Maya divina il mio stomaco sta per scoppiare ti aiuterò io oh eccolo e adesso cosa devo fare? devi spingere spingi più forte spingi ok si proprio così credo di divergendere anch'io sbrigati non posso più trattenerla beh non era così difficile mi sento molto meglio sbrigati non posso più resistere oh mi ricordo una discoteca mi ve ne voglia di ballare stai bene? ho fatto togliti amo quanto cartigenica ti aiuterò io per prima cosa rimuoviamo la cartigenica come appiccicosa ora spazzoliamoti i capelli forza ops dovrò optare per qualcos'altro sono sicura che la mamma ha qualcosa che possa tornarmi utile oh mamma di nuovo niente più caccole io voglio solo il tuo gel per capelli trovato perfetto ora mettiamoci all'opera così dovrebbe essere sufficiente ora devo solo massaggiarlo sul tutto il cuoio capelluto oh oh cosa sta succedendo? ma non è gel per capelli? che sta succedendo? niente fa niente niente che una parrucca non possa risolvere eccoti qui oh wow sei stata veramente brava grazie ho un regalo per te un regalo evviva ecco a te una macchina wow finalmente potrò correre in una gara di velocità che figo finalmente il mio sogno si è avverato esattamente ecco a te oh ma cos'è? una macchina giocattolo ti pareva? ehi maia guarda un po' wow cosa sta succedendo? la sto testando si è rotta ops non va affatto bene falla smettere barbie santo cielo fermati ragazze ma è tutto in disordine ciao mamma ma che cosa sta succedendo? ops pulite la vostra stanza adesso ops puliamo puliamo inizierò dal letto metterò tutto sotto al letto fatto sta venendo bene oh le cose che piacevano a maia wow vi meritate di essere esposti in bella vista starete qui ci piace ora voglio attaccare questo poster non posso credere che tu non l'abbia mai attaccato è così cupo qui dentro questa camera sta iniziando a essere più bella voglio che sia tutta rosa la mamma ne sarà entusiasta molto meglio dove dovrei mettere questa bara? ho un'idea non lo so wow barbie cosa stai facendo? ecco tutto fatto che ne pensi? ma cosa hai fatto? no 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 cosa hai fatto? ora ti faccio vedere io non voglio una camera tutta rosa devo fare subito qualcosa teschio mi aiuterai tu occhio wow cos'è successo? ora il mio lato è proprio come piace a me molto meglio non è che abbiamo trovato una soluzione d'accordo siamo una bella squadra oh una notifica Ken ma cos'è? è Barbie Land vogliono che torni a casa devo andare cosa? ma sei mia sorella oh ma certo saremo sempre sorelle ma io devo tornare a casa mia non mi scorderò mai di te addio mondo reale c'è puta qui dentro wow cos'è questo posto? oh ciao Ken che ci fai qui dentro? io sono Timmy spostati wow che posto magico wow non sono più nella casa dei sogni cosa sto facendo? ok ciao chi sei? che schifo assomiglia alla mia bambola incredibile oh è Barbie dovete assolutamente vederla wow esiste davvero oh wow guardate le sue scarpe wow i tuoi capelli sono fantastici wow sei così bella controlliamo sotto la gonna scusate devo andare ma Barbie aspetta non puoi andartene Barbie smettila di seguirmi prendetela oh credo di essermi persa vieni qui oh Shouken tieni questa oh credo che sia qui dentro hai visto Barbie? no mi dispiace cosa? diamo una pulitina quanto è sporco ci è mancato poco veramente mi mancano i miei vecchi vestiti wow molto più carina vero? ascolta dobbiamo davvero darcele da qui presto forza ehi dov'è Barbie? entra gentiluomo resta qui ok? wow ciao amico che donna pazza ehi cosa stai facendo? ehi c'è qualcosa di strano vediamo è una specie di poltiglia marrone solo cioccolato troppo divertente li abbiamo seminati ma dovresti comunque nasconderti rimani immobile ok? non abbiamo molto tempo ehi fratellino sono a casa ehi che succede? cosa l'hai fatto? dimmi giochiamo andiamo preso Barbie senza testa senza testa? magari un'altra volta ok? bene ma tu sei il prossimo ha qualche problema via libera è stato terrificante devo chiamare un medico un medico? non c'è nessuno pronto? c'è nessuno? ah c'è qualcosa di bello in tv? ultime notizie questa sera una Barbie in carne e ossa è stata vista alla La Lae High School se avete informazioni su di lei vi preghiamo di chiamare il numero sottostante cavolo sei finita in tv quindi sei davvero ehm sì Barbie in carne e d'ossa ed ecco il mio taxi ciao aspetta non puoi entrare in quella cosa è troppo piccolo per te forse? non funziona Barbie andrà tutto bene? voglio andare a casa aspetta so come tirarti sul morale mi manca la casa dei sogni cosa è questo odore? wow un profumo fantastico adoro la frutta potrei annusare questa roba tutto il giorno wow deliziosa non sono più triste ho preso una pizza cosa stai facendo? vuoi assaggiarne un po' no ho del cibo vero interessante è formaggio? pazzesco? pazzesco che bello aspetta devi morderla puoi masticare mordere e masticare? oh wow non ho mai assaggiato nulla di simile prima d'ora sono in paradiso nuoto nella salsa di pomodoro più formaggio oh sì per favore questa è la cosa più buona del mondo Barbie? wow è così buono non voglio smettere mai più di mangiare ancora di più di più ah cosa? ah ma ne ho mangiato solo un pezzo? è stato incredibile oh cos'è successo al mio stomaco? mi sento come se stessi per scoppiare mmm noi la chiamiamo gravidanza da cibo niente paura ti aiuterò io e cos'è questo? e come si usa? devi spingere spingere? oh ok penso che stia funzionando wow Barbie? hai finito? ora è tutto a posto wow hai fatto la cacca ok non importa ho una sorpresa per te pronta? wow guardate tutti questi vestiti questo è il paradiso ed è tutto rosa incredibile voglio provare tutto il primo un set rosa perfetto per la spiaggia prendila e che dire di questo di seta? è favoloso o no? o forse qualcosa di più sportivo che ne pensi? mamma mia che noia immagino abbia trovato qualcosa ancora? sta proprio facendo shopping oh direi che basta da questa parte oh ciao ragazzi non avete tanto da dire vero? che maleducazione ma mi avete fatto venire un'idea sarà divertente Barbie dove sei? che strano Barbie? mi hai trovata guarda qui mettiti in posa ecco ok mi hai beccato forza ok e ora è il momento di pensare a delle scarpe nuove siediti ti troveremo delle scarpe in me che non si dica dai falle vedere vedi qualcosa che ti piace? wow sono carine il tacco alto no queste sono meglio fidati di me prova forza entrati so che ci starà sono un po' più in là non so se sono del mio numero forza attenzione per poco dammi queste mi hai quasi ucciso ma grazie per l'acquisto contanti o carta di credito? costosissime non preoccuparti ci penso io contanti per favore ciao ciao che bella coppia aspetta un attimo questi sono i contanti di Barbie non posso crederci mi hanno derubato la luce del giorno qualcuno chiami la polizia aiutatemi la mia vita è finita casa non c'è casa che pomeriggio divertente e ora? dipende da quanti soldi ho oh sì ti farò una sorpresa una sorpresa? ehi la luce c'è qualcuno in casa? chi c'è? e cosa sono quelle luci? ehi oh aspetta un attimo è quella della bambola senza testa oh povera Barbie aspetta ce ne sono un sacco che orrore oh no oh non permetterò che mi succeda una palla oh è la sorella di Timmy ciao proprio così ciao Barbie giochiamo Barbie sono a casa ma che? passami lo zucchero Timmy sei tornato ti unisci a noi? no grazie va bene posso giocare all'aperto? sì certo grazie è stato divertente assolutamente ci vediamo è cambiata molto ciao oh guarda ho lasciato le sue Barbie oh ciao Barbie ciao Ken allora guarda un po' siediti ora tocca a te tieniti forte cosa hai fatto ai miei capelli? oh mi sento diverso sei bellissimo e questa è casa mia wow vuoi che io entri nel tuo mondo? se lo desideri mi piacerebbe sì quindi? mi piacerebbe vedere dove vieni sono contentissima vieni pure benvenuto nel mio mondo oh ma guarda che tipo è bellissimo e io gli ho detto dammi la palla e boom sono meglio di lei devi solo vedermi cosa? Barbie? ciao Ken scusa Barbie ma a me piacciono le sirene andiamocene ah gli piacciono le sirene cos'ho io che non va? cosa? le mie gambe? ma certo deve essere colpa loro eppure so di poterlo conquistare ma come farò? se vuoi essere una sirena devi avere una coda oh spero solo non faccia male ma hai ragione facciamolo per prima cosa devo mettermi queste pinne si avvicinano un po' a una coda ora mi serve un po' di nastro adesivo devo avvolgerle bene ora ho bisogno di qualcosa di scivillante questo non va bene ma questo è perfetto mi servono le paillette più ce ne saranno meglio verrà come luccicano fatto e tu? via ora si che sto bene ora hai bisogno di un bel reggiseno un reggiseno va bene ma cosa posso usare? forse questi fiori proviamoli no non credo vadano bene ma cosa abbiamo qui? dei pezzi di rivista anche no i miei peluche? di nuovo no oh come posso fare? è così difficile oh mi piace questo cuscino ora lo provo perfetto mi sta proprio bene ma i miei capelli? tutte le sirene hanno capelli belli devo scegliere un colore il verde? no l'arancione? anche no il giallo? non male ma sempre no il rosso? sì potrebbe andare devo solo arrivare alla lavatrice eccola qua mettiamo il calzino dentro e anche i miei capelli ora la devo solo accendere oh credo abbia funzionato wow e i vestiti? opsì non sono stata io lo giuro finalmente cosa? devo strofinare per bene opsì dove? dove è? voglio la mia faccia indietro sono di nuovo io ma non assomiglia a una sirena bene aggiungiamo un tocco di colore devo applicare il colore sulle palpebre che bell'effetto oh il mio stomaco credo di avere fame ordinerò del cibo per sirene toc toc consegna per la sirena oh che rapidità cosa abbiamo qui? del pesce? che schifo puzza eppure sai che c'è? mi è venuta un'idea geniale per prima cosa mi serve questa rete ora devo scegliere un colore e poi applicarlo sul viso in questo modo fammela togliere ed eccoci qui sembrano squame e queste cosa sono? perle? per favole favolose aggiungiamone un po' wow adesso sono stupenda oh ma cos'è? una lettera aiuto ma non importa adesso ho sete oh Ken spero tanto di poter conquistare il tuo cuore sì bellissima ah? cosa? aia le mie labbra però sono rimpolpate questa volta voglio aggiungerci del rossetto solo un po' riproviamo e voilà che figata aspetta gli orecchini ho bisogno di un paio di orecchini li creerò devo solo creare la forma desiderata aggiungere dei dettagli da sirena e incollare il tutto insieme facendo molto piano aggiungerò delle perle e dei brillantini quasi fatto vediamo come mi stanno uno e due proprio quello di cui avevo bisogno wow ora sembra una sirena evviva allora ti piaccio? sei perfetta Kent ti sta aspettando sì toc toc aspetta chi sarà? consegna per la sirena cosa? non ho ordinato niente aspetta un attimo questa voce è wow Barbie sei così bella oh Ken Barbie e a Grazie a tutti.